Secondo il telefono Rosa deve cercare di capire se è controllata. Il primo passo che fa il violento è quello di non lasciargli scampo, controlla il telefono, controlla i suoi spostamenti, contemporaneamente cerca di isolarla. Segnali da non sottovalutare, ma sulla violenza bisogna mettere in campo soprattutto un lavoro culturale. Noi sappiamo che la violenza è una questione culturale, una questione culturale che va affrontata nelle scuole. Insegniamo a tutti i bambini, sin dalle scuole materne fino all'università, che cosa significa la violenza all'interno delle mura domestiche, la mancanza di rispetto verso le donne. Allo studio del governo, un nuovo provvedimento contro la violenza di genere. Il numero uno del Viminale, Matteo Piantedosi, in un'intervista alla stampa, annuncia un intervento da portare in Consiglio dei Ministri, insieme ai Ministri della Giustizia e della Famiglia, dal potenziamento della prevenzione agli ammonimenti a ricorso più frequente ai braccialetti elettronici, strumenti da affiancare a un più ampio progetto di educazione e informazione, spiega il Ministro Roccella, con il microcredito di libertà per affrancarsi dalla dipendenza economica, spesso un freno per le donne che vogliono mettersi in salvo.